ragazzi buongiorno oggi è un'altra giornata di live con l'orario ballerino è un altro setup come potete vedere è un po' tutto diverso però mi hai fatto caccare sotto aiuto come perché era tutto nero buongiorno buongiorno questo che transizioni fiche il più 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 non l'ho fatta io le ha fatte il team di samsung bellissimo tutto quanto tra l'altro piccola curiosità quello che vedete qui non è gestito da da me ma è gestito da una signorina che è qui in chat tra l'altro non parla italiano però volevo farla vip appena avesse scritto qui vi racconto una cosa al volissimo una cosa al volissimo perdonatemi i miei tre secondi di ritardo ma ho affondato la mano nel cestino di mandarini per prenderne un paio per dopo e mi sono accorta che sono in frigo da un po' troppo tempo infatti affondando la mano ne ho strezzato uno e tendenzialmente i mandarini i mandarini i mandarini non dovrebbero disgregarsi tra le mie mani ecco mettiamola in un modo un po' simpatico però con questo mandarino è successo e quindi l'ho preso e dopo averlo acchiappato non esisteva più credo di dover buttare un po' cioè un paio si sono salvati però adesso apro anche questi e vedo cosa è successo ho sette mandarino hello hello signorina from chat sì sì volete dopo salutare tutto quanto c'è la bandiera il mandarino buggato ragazzi buongiorno grazie di esservi uniti a me in questa giornata mega super iper speciali perché oggi è il primo giorno nonché la prima live del galaxy creative fest ciao roberta eccola ciao adesso faccio anche vip va là va là aspetta aspetta dopo ma i moderatori possono fare vip le persone in caso becky for the win grazie becky che manda questo questa cosa qui e anche questa qui e anche le cose che vedete qui non si può fare nope nope allora lo faccio io prima parte della live io che capisco come mettere i vip aspetta che copio il nickname al volissimo e salutiamo ovviamente le ambulanze fuori che fanno sempre il loro lavoro ok ho inserito il vip sono gli streamer allora ci penso io l'ho appena fatto intanto gigio grazie mille robie fixa la cornice a sinistra please ho sbagliato io caspita aspetta aspetta lo faccio lo faccio aspetta eh pronto pronto no no aspetta wait hai ragione hai ragione ecco qua fatto fatto ok ok dovrebbe essere sistema no adesso ho un problema a destra ah lo so amici scusatemi non è non è il mio campo non non so fare oh no ho delle persone in chat che non apprezzano facciamo così al volo adesso adesso è lo stesso staccato da più o meno tutti i lati robie no era meglio prima robie no ragazzi un po' di pietà so che siete sub però un pochino di pietà l'allargo un pochettino scusate facciamo finta che non facciamo così così o bs non è così preciso ragazzi non mi permette di fare le grandi modifiche come se fossi su photoshop quindi un po' dobbiamo farci l'abitudine perché fa questi grandi scattoni così così va bene così va bene così va bene non mi ci voglio troppo incastrare però facciamo così facciamo che così va bene dai il cerro grazie degli undici mesi solo col mio nome funziona il vip colpa del ao tra l'altro grazie mille anche a brother of devil che fa il secondo mese sono molto contenta che il primo ti sia piaciuto e scusatemi tantissimo per non aver fatto la live ieri l'abbiamo sbaggata non vi preoccupate il gioco funziona ce l'abbiamo fatta un applauso oggi ho tolto un po' dovrebbero esserci comunque le robe e il trader con i punti per quello che ho tolto gli alert ma un applauso i moderatori che ieri mi hanno aiutato tantissimo barz e yusam e l'erican a uscire da una situazione davvero molto scomoda bravi bravi quanto li ho messi grandissimi vabbè li teniamo grandi così oggi con r grazie dei 23 mesi è partito l'hyptrain che cosa si fa oggi ve l'ho già spiegato in una storia instagram dove ho messo un sacco di esplosioni e tutto quanto ma è una giornata super mega hyper ultra super importante perché oggi esce il nuovo modello di telefono galaxy e so che moltissimi di voi sono appassionati di tecnologia so che seguite gli ultimi modelli quando escono eccetera eccetera è la prima volta che mi capita di averne uno in anteprima fra le mani non ironicamente mi sembrava di avere i cecchini davanti ai palazzi che mi puntavano se per caso avessi fatto vedere e sentire e sapere qualcosa fortunatamente anni di esperienza sotto nda mi hanno insegnato a dimenticare proprio pensiero rimosso rimettilo un altro giorno in modo da non farmelo scappare neanche per sbaglio ehi sai cosa hai mangiato cosa ho mangiato l'altro giorno ho mangiato galaxy oh caspita e quindi non si può dire e ops vedi l'avevo capito che era sam bravissimi oh chi è arrivato a chi ce l'ha fatta bravissimi era proprio una marca samsung bravissimi ce l'avete fatta danzero regala la savala di eva biker e quindi oggi ci saranno due ore di streaming nella prima parte mi metto a spulciare tutto il telefono e spero che vada tutto bene devo essere sicura sono un po nervosa perché è la prima volta che utilizzo un altro programma per trasmettere quello che c'è sul telefono quindi non ho avuto anni 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 per testarlo ma in questi tre giorni gli ho fatto fare di tutto capriole cose eccetera eccetera e regge e quindi potete proprio vedere quello che succede sul telefono mentre ce lo spulciamo e facciamo tutte le cose che si fanno con un nuovo telefono quindi cambi lo sfondo decidi quanto sono grandi i font ti metti a non lo so fare foto a tutto quanto al gatto il gatto meglio che non ci sia oggi neanche vi dico cosa stava tentando di fare perché io ho un'altra telecamera in questo momento puntata sopra il tavolo neanche vi dico che cosa ha rischiato di fare dove ha rischiato di finire il gatto e cucinato con che cosa cosa succede cosa succede cosa è questa parola che leggo ora ho capito e ragazzi bravissimi ce l'avete fatta volete vederlo volete che vi faccio finalmente vedere questo telefono che ho tra le mani tra l'altro ci sono tre modelli e io ho tipo l'ultra iper mega super modello perché è il galaxy 22 posso posso dire ho paura a dire questa cosa e il mio in particolare visto che ci sono tre modelli di telefono è quello che si chiama ultra è tipo il più bono come si può dire in termini professionali visto che siamo in uno streaming professionale è il più bono è quello che alle teste dici va bene il primo e il secondo ma porca miseria quello lì quando torna a casa lava i piatti sicuramente sa come fare una lavatrice e stirare e quando vede accompagna una donna le apre la portiera le porta i fiori ecco quindi sì paolo ultra e cosa oh scusatemi scusatemi allora quello che si definirebbe grosso più grosso anche se di un'altra marca era quello che volevo io prima di ricordarmi che sono povero tra l'altro non so quanti di voi aspettano l'inizio dell'anno per effettivamente comprare un nuovo telefono io sono sincera di solito prendo tipo nuovi telefoni intorno a natale inizi dell'anno perché ci stanno i saldi e ci stanno tutte le cose e quando escono nuovi telefoni di solito vado a prenderli dal di solito vado a vedere cosa sono usciti mi faccio un po' accarezzare un po' non sai no dici ah che bella questa presentazione che hanno fatto mi sa che lo prendo al day one quindi sì e yes il galaxy s 22 ultra il più bono gesto con la mano esatto esatto beh è utile per tenersi aggiornati per l'uso che ne faccio io lo cambio quando si rompe io finché non esplode quello che ho prendo sempre per il mio compleanno così metà me lo prendo io e metà i miei bravo l'audi è giusto grande grazie Milirk per i 100 bits vogliamo vederlo questo nuovo telefono quindi mentre parliamo di quante volte cambiamo la nostra insomma il telefono che teniamo tra l'altro io devo cambiare tutte le cover io ho un po' di telefoni sono sincera io sono quella che chiamiamo mi pare che sì o anche una volta si sia definito così però non mi ricordo il nome quando tieni più elementi della stessa cosa perché hai paura che si rompa ecco io ho un sacco di telefoni nel cassetto metti caso che io non li butto mai quando li cambio li metto in cellophane in un cassetto e li stanno il backup del backup del backup del backup l'ho letto l'ho letto Sintan grazie accumulatrice seriale in realtà sono prudente diciamo così chiamiamoci prudenti allora siamo pronti abbiamo la camera fatta e finita sopra il tavolo e questa è la confezione ora non siete abituati ad avere la camera sopra il tavolo quindi vi lascio solo immaginare dove si stava aggrappando neon prima di iniziare non la potete vedere perché è invisibile questa camera non è qui ma è tipo lì davanti ed è molto settata bene in modo da far vedere bene tutto quanto questa tra l'altro è la mia scrivania se volete qua ci sono vedete non dicevo una bugia i mandarini di cui parlavo e di cui dopo faremo la conoscenza sperando siano mangiabili solo la scatolina grazie vuoi la scatola? è bellissima la scatola non sta facendo la gara dei schiacciate con la telecamera che quality esatto l'unboxing dei mandarini esatto aspetta che ha finito l'hyp train che dice? che dice? hype cool che bellina questa sono leggermente migliorate le moti con l'hyp train grazie di l'unico dei sei mesi buongiorno buongiorno unboxing tanto le ho già tutte allora questa è la scatola come vedete c'è una bellissima S sopra io sono molto dispiaciuta che questa camera che sto usando non è questa quindi i colori che vedete qua ve li faccio vedere da qua ma qua rendono molto 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 meglio perché c'è un contrasto di colori che insomma posso aggiustare fino a un certo punto perché è un modello un po' vecchio tipo 6-7 anni fa di camera è stata una del no forse di meno però tipo dopo la webcam sono passata a questa nella mia nel mio streaming ed è così bello tutto metallizzato galaxy S 22 ultra eccolo qui ah tra l'altro ci sono tutti i comandi se volete toccheremo un bel po' di punti e non vi preoccupate che parleremo di tutto quello di cui c'è da parlare di questo telefono ma iniziamo aprendolo tra l'altro qua c'è scritto tipo 22S c'è tutto questo gioco di curve vado ad aprirlo? in poche parole sarebbe il Samsung dopo l'S21 allora sì ma questo è il telefono versione ultra e ma vi faccio vedere che cosa ha di ultra perché c'è una cosa che è chef kiss scavicchi e poi lo apra eccolo qui il telefono e badate bene ho aspettato voi per fare la cosa che va fatta quando hai un telefono nuovo pronti? io io aspettavo voi guarda qua guarda qua guarda qua guarda sono 17 e 15 comunque fallo pellicola è arrivato il momento ce ne sta un'altra anche quindi poi vi voglio anche per la seconda pellicola lick lick voi lo sapete che in ogni momento c'è qualcuno dall'alto che vi sta leggendo in chat quindi tutto quello che scrivete ha una maggiore rilevanza in questo momento no pressure no pressure però però fateci caso dovete dire tipo ciao mamma e cose del genere dopo il pellicolina volete che lo rifaccia? ciao alto io sono gigio volete che lo rifaccia? e allora facciamo così facciamo un bello zoom questa è la mia mano guarda come specchia bene queste sono le mie unghie invece e tocca girarlo perché la quantità di fotocamere che ci sono qui dietro è davvero devastante io non ero pronta a vedere tutte queste fotocamere poi ce le vediamo anche però aspetta 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 dov'è dov'è no povero Denzyro no troppe telecamere allora una due tre quattro cinque poi vi spiego tutto perché possiamo vederci sono stata assolutamente autorizzata a spulciare tutto il telefono quindi possiamo vedere come fa le foto e quanto le fa bene considerando che comunque lo sto trasmettendo con un programma e non è sicuramente la versione tu dal vivo che lo guardi sarà cento volte meglio però trovate un bel programma per trasmetterlo e togliamo anche la seconda pellicolina da dove la tolgo da qua tipo mamma mia guarda quante bolle allora pronti pronti facciamo una mega visuale da qua ok ok ce l'ho ce l'ho io mi sto anche immaginando voilà va che bello va che bello guarda che bello tra l'altro è del colore della mia precedente cover quindi uno dei miei preferiti è tipo rosso un po' scuro molto elegante che forse ecco rende meglio qua potete vedere meglio il colore sicuramente dopo ve lo faccio vedere anche dall'altra telecamera per la telecamera dell'unboxing i colori sono un po' falsati ma il telefono è quello giusto è veramente un fornello induzione adesso ci sono tre telecamere a sinistra due qui qua c'è il flash poi mi faccio anche delle foto con il flash samsung ma non è solo di questo cioè il telefono in realtà non è finito qua è già stato acceso cioè volevo volevo farvi vedere il telefono nel senso guarda la prima volta che lo apro però volevo fare dei test perché sono matta è troppo prudente ma voi fate finta che è già tutto in posto c'è già messo le robe mie dentro cioè facciamo finta che questa cosa è successa il telefono non è finito perché c'è un elemento in più e non so se lo state vedendo cioè è praticamente invisibile non riuscite probabilmente non riuscite a capire dov'è ma c'è un elemento in più che io posso farvi vedere se qualcuno è in grado di spottarlo però guarda qua oh si è un po' aggiustata il colore mi fa piacere che la fotocamera un po' ha capito ah ah la penna la penna e dove sta la penna e dove sta la penna e dove dove è situata questa penna yeshira grazie dell'anno di sub sotto io io non non so cioè non so se voi siete abituati per me questa è magia però questa qui è una penna cioè io faccio un click e succede questa cosa qua ed è e no guarda guarda quanto diventa questa penna porca miseria è davvero enorme enorme e questo è il telefono completo l'ho detto perché poi ci sarà una schermata in cui vi farò vedere anche la cioè ho fatto abbiamo fatto io e e becky una cosa incredibile a schermo vedete piccole parti dell'unboxing che sicuramente vi interessano ci sta il cavo c qua è il dolce pennino che serve per aprire la casseruola delle delle sim io non ho fatto questa cosa quindi non l'ho tolto però in caso è a disposizione così non dovete cercare stuzzicadenti nella cucina io l'ho fatto diverse volte non con questo telefono questo telefono mi azzaro neanche a guardarlo e qui ci stanno tutte le istruzioni quali sono le specifiche io le specifiche carissimo panda le ho studiate ma sono assolutamente certa al 100% che il sito ti sa dire le cose molto meglio io adesso te le spiego però ci sono un paio di cose che puoi scrivere in chat per guardare le specifiche più nel nel dettaglio e le abbiamo preparate insieme al team quindi se vuoi scoprire qualcosa di più sulla penna è punto esclamativo spen e se vuoi invece vedere le caratteristiche del telefono in generale a parte schiacciare punto esclamativo galaxy c'è il pannello in descrizione e c'è anche un'altra pagina in realtà guarda puoi vederla qua tutto quello che volete chiedermi tra le mille cose che devo fare perché voglio farvi vedere tutto quanto in una quantità di tempo che per una che parla come me è davvero piccolissima non mi sto lamentando è che devo imparare a fare i riassuntini però vi lascio tutte le indicazioni per guardare qualsiasi cosa io vi faccio vedere cosa succede quando ho il telefono in mano vi parlo della penna vi parlo della modalità di nightography vi parlo di come si fanno le foto di notte vi farò vedere un attimino tutti i menu come si cambia tema come regge i giochi qualsiasi altra cosa che non è stata detta vi lascio tutti i link eccola lì eccola lì S pen esatto guarda che vengono spammate mamma mia che bello cellulare è stupendo ma è gigantesca no se li segni sul telefono lo compro ora ma chi voglia prendere in giro aggiunge al carrello Davido sta già comprando il telefono quindi molto bene molto bene mi fa piacere allora questo è il telefono e tra pochissimo passerò a un'altra a un'altra visuale datemi un attimo un secondo che faccio vedere qua io ho la mia il mio ditino ovviamente così che si fa con i telefoni faccio vedere tutto anche con l'altra schermata ma questa è la dimensione della penna e rispetto al telefono questa è la dimensione del telefono ho una mano nella media credo di avere una mano assolutamente normalissima però mi sembra davvero gigantesco quindi se comprate questo telefono questa è la grandezza che vi beccate tra l'altro bellissimo che il menu arrivi fino a qui sopra quindi non c'è neanche un po' di spazio che viene risparmiato è proprio sul bordino la telecamera è qua che spunta e quando vai con la penna c'è questa cosa bellissima a schermo e quando non hai più voglia di prenderla te la rinfili qui sotto io sinceramente ho intenzione di usarla tutto il tempo adesso vi faccio vedere che cosa ho preparato perché a me piace fare queste cose e mi piace anche tantissimo che Samsung mi segua in queste cose aspettate che riduco solo di un pochino la cosa no aspetta ma stai a vedere che non è che non è grande c'è Gigio che impazzisce a me dispiace un botto aspetta 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 devo sistemare un po' gli angoletti giuro però il telefono a schermo però non voglio che si incastri con la scritta quindi datemi solo un secondino che me la sistemo così sapete che io sono una perfezionista Gigio non guardare Yusam non guardare è finito è finito potete riaprire gli occhi è tutto è tutto sistemato guarda qua i graffi di neon nel frattempo i graffi di neon non si è neanche lontanamente per sbaglio avvicinato questo telefono proprio l'ho chiuso fuori dallo studio per giorni e giorni sto guardando sto guardando tantissimo sullo gigio tra l'altro metto qua la scatola così si vede io un telefono troppo recente non abbastanza soldi ma non mi sembra male allora vediamo un attimo insieme tutto quello che si può fare con anche la pennina ne ho nasato sfuriate allora innanzitutto c'è da dire che quando apri la penna io ho una cosa che ho scoperto 4 minuti fa più o meno ti si apre un piccolo menu perché come vedete c'è la batteria della penna e la penna e questo ve lo posso far vedere nel dettaglio con questa videocamera perché è un po' più per questo tipo di inquadrature c'è un piccolo pulsante come le penne che usate quando vi mettete a fare i disegni non so quanti artisti ci siano in chat in questo momento però il Galaxy Creative Fest è fatto apposta perché così possiamo far vedere in quanti modi possiamo essere creativi fighi disegnare usare la penna e c'è un piccolo tastino questo tastino l'ho appena schiacciato e praticamente può aprire questo piccolo menu a tendina e posso creare note vedere note posso fare dei messaggi in live tutte cose che per ora non faccio perché non so in che parte dell'account poi va a toccare essendo che l'ho scoperto 4 minuti fa diciamo che è uno spoiler per quando comprerete il telefono se non vi va di avere questo menu a tendina aspettate che ve lo chiudo l'avevo fatto l'avevo fatto oh mio dio ok potete fare così e trascinare qui in rimuovi in questo modo non vedete più niente di quel menu e possiamo tornare al telefono normale sì in realtà sono van gog anche hai anche i super mega auricolari bluetooth samsung no io non li ho in questo momento tu li hai? li possiedi? me li descrivi? che ram hanno? oh yusam grazie moderatori che mandate i comandi allora 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 innanzitutto quello che si fa come prima cosa scusatemi io sono uno di quelle mi vado a cambiare lo sfondo quindi vado a scrivere sfondo del telefono sfondo e stile perché sono molto belli gli sfondi bellissimo il video iniziale eccetera eccetera però io voglio mettere tutte le le robe mie quindi vado a scegliere sfondo personale in evidenza scaricati ce ne stavano un paio di bellissimi tra l'altro ci puoi mettere anche tipo i video come sfondo quindi lo faccio immediatamente grazie mille poi mi vado a scegliere anche una palette di colori che posso applicare tavolozze icone delle app questo non l'avevo fatto molto bene però vado a mettere un po' di viola e se voglio in realtà posso anche cambiare lo sfondo no però lo sfondo è molto figo in realtà questo com'è andiamo a vedere se ha messo la schermata di blocco quella giusta eccolo qua ma ma che bello ci puoi mettere neon come sfondo posso mettere neon come sfondo neon cucinato al forno 8 giga sul 126 e 12 su 256 ah ragazzi se state vedendo la pagina del Samsung Galaxy Ultra in tutti e tre i modelli questo scusate Samsung Galaxy 22 questo è Ultra però ci sono anche gli altri modelli se ve la state spulciando e vi volete rispondere fra di voi alle domande a me va benissimo non vi preoccupate che vedo che ex Can Sibur stava già cercando di rispondere a qualche domanda puoi fare una piccola gif e metterla è vero potrei farlo rivoluzione ah ok sono tutti i comandi poi l'ultima cosa un'altra cosa che volevo fare in realtà non so se mettermi già a fare foto non so se vi ho dato abbastanza tempo per prepararvi volete che vi faccia una foto in chat perché c'è questa roba fighissima che fa tipo le foto mega fighe di notte quindi voglio spegnere un attimo tutta la stanza e farvi vedere come si fanno le foto e posso anche farlo in live guarda qualche roba guarda qualche roba piccola premessa notate un piccolissimo piccolissimo lag è tutta colpa del programma non vi preoccupate qua vedete che lagga molto di meno ciao ragazzi questo sono io belle le icone viola ti piacciono? volevo fare prima una foto alla chat se me lo permettete perché posso fare sia i grandi angoli vedi qua potete vedere un attimino la mia scrivania va bene si mette in posa se poteste mettervi un attimo in posa per favore voglio fare sì una foto alla camera però mi piace molto che c'è gente in live da me faccio anche uno zoom out così prendo un po' più di persone quando è fotocamera il telefono arriva la qualità della camera effettiva dello streaming hai visto? no mi vergogno no non vi vergognate aspetta aspetta sorridete sorridete ok faccio un po' così così vi prendo un po' di più oppa la la eccovi qua possiamo fare anche un video sì penso che possiamo fare un video adesso vi faccio vedere anche questa cosa fichissima dai metto a fotografarvi come se fosse del cibo uh ah ma perché sfoca no sfoca un po' allora siccome ho del cibo mamma quanto è arancione questa questo mandarino radioattivo faceva la foto al cibo ah giustamente sì aspetta ma non l'avevo vista perché sfoga tutto tranne il cibo guarda che bello metto in posa sensuale posso fotografarvi come se foste cibo posso farlo sì aspettate che torno indietro eccovi qua e colora meglio i soggetti inquadrati un mandarinissimo infilse con la penna eccoli ha messo a fuoco soltanto e il davido fermento tattico luke lore goblin mi dispiace voi siete assolutamente comparsi siete nella mia foto tra l'altro volete ridere io poi tutte le foto le lascio nel telefono quindi preparatevi a fare un po' il giro del mondo in caso bravi che vi siete messi in posa fotografami come uno dei tuoi mandarini francesi e allora finalmente arriviamo a uno dei punti che vi siete chiesti di più ossia perché ci sono tutte queste fotocamere allora io devo ammettere che di fotocamere in generale mi sto un po' interessando in questi giorni in questi mesi anzi quindi ISO la quantità di luce come sfocare il tempo di esposizione sono tutte cose che hai necessità di imparare in alcuni casi scusatemi vado a fare un attimo come si faceva ecco qua sono tutte cose che hai necessità di imparare per fare un po' di cose manualmente in questo caso in questo telefono specifico e per farlo io mi vado a spegnere tutte le luci ci sono cose già preimpostate quindi tu non devi fare assolutamente niente e fa tutto il telefono come la modalità notte per fare le foto lunghe no allora la modalità notte in pratica posso anche spegnere ancora di più la camera volendo per farvi vedere quanto abilmente però è molto figa con le luci in realtà quindi lo lascerò in questo modo la modalità notte praticamente permette di tenere tutti i dettagli a schermo di non farvi perdere niente perché è buio sarebbe molto figo anche provarlo in una situazione sai dove sei fuori stai guardando dei paesaggi tipo e cose del genere non è questo il caso e come sapete io sono chiusa nella mia camera però la mia camera è perfetta per le foto con i neon e tutte quante le luci quindi proviamo a fare una foto andiamo a abbassare un pochino l'esposizione perché voglio far vedere meglio tutto quanto e già in 16 noni voilà e vado a scattare la mia foto c'è un problema con il telefono rotto a schermo e lo tiene in verticale oh scusatemi è vero che posso farcela aspetta lo so lo so lo so fare c'è il blocco della rotazione rotazione auto verticale yes ok ce l'ho quindi se faccio così no si gira ah ma perché si gira il programma grazie di avermi avvertito le foto lunghe quindi meglio usare la tua camera come fotocamera no no per dire che se fai le foto di notte comunque te le tiene benissimo tra l'altro posso anche mettermi a giocare un po' coi filtri però come vedete la mia camera è buissima cioè faccio faccio veramente pietà se arriva mia madre mi infila della frutta in bocca e dice vatti a prendere un po' di sole un po' di vitamina perché sei sempre al chiuso è vero sto sempre al chiuso è un po' tutto finto quello che vedete perché in realtà queste fotocamere sia quella che vi ho appena mostrato in realtà quella del telefono sia la fotocamera che sto usando mi mettono un po' più di luce di quella che in realtà c'è mia madre è molto preoccupata per questo mamma tranquilla sto bene oggi questo è il quantitativo di vitamina che avrei preso se fossi uscita al sole non credo funzioni così però sì bravissimi nightography esatto c'è lì il pulsantino che potete usare buone foto notturne sono la svolta del telefono sì in realtà non mi ricordo sinceramente essendo che forse magari gatto quello un po' più esperto di telefoni in generale non mi ricordo da che telefoni hanno iniziato a dare importanza alla parte notturna delle foto perché la prima cosa su cui i telefoni si sono soffermati era il i selfie quindi hanno iniziato ad aumentare i megapixel della fotocamera interna questo me lo ricordo perché c'è stato tutto il boom anni fa di farsi foto migliori con l'avvento dei social dopodiché si è passati a migliori foto notturne perché la gente sta a giro di notte quindi sì si è appena stata a Disneyland ha preso abbastanza sole per i prossimi mesi non c'era così tanto sole eh quando sono andata io tra l'altro guarda che differenza guarda come ti ha ha tolto la bruciatura del della luce e l'ha modificata ecco penso che questa sia wow che comparison che sono riuscita a fare senza senza volerlo guarda guarda qua come ha compensato la luce perché lì è rosso in realtà è solo che voi vedete giallo però in realtà è di questo colore bravo telefono bravo così devo parlare di meno e potete vederlo di più guarda un po' ma è lo stesso per me sono sempre chiusa in casa a disegnare eh io ho anche scaricato un po' di applicazioni un paio di giochini che forse prima avete visto e un paio di applicazioni anche per per disegnare io pensavo che la luce del pc creava vitamina D oddio non proprio però sì non avevo idea che fosse rosso sono rosse e blu e infatti ti creano un po' un po' di viola l'ultima cosa che volevo fare in realtà era farmi una foto per farvi vedere un po' di filtri che c'erano quindi posso farmela come se fosse cibo vorrei farmi un selfie cibo se si può così mi sfoco eh ce la oh no mi si vede sfocata ciao amici che schifo che schifo questa inquadratura chi è che viene bene dal basso di solito quale altre menzogne ci rifila la telecamera se veramente cibo ho veramente questo colore oppure il telefono ha sgamato i veri colori in realtà sono pallidissima un selfie cibo alla fine è un cellulare spettacolare lo è lo è davvero vediamo un attimo notte cibo panorama super solo moi per l'asso dell'allentatore queste sono cose che provo dopo magari provo a fare magari eh proviamo a fare quella cosa del cibo ma con me no è soltanto esterna purtroppo non posso allora vado a farmi un ritratino allora dovrebbe esserci la modalità ok io sono da solo io con tante persone non c'è nessuno qui con me però mi farò comunque una foto chichi benos chichi betanos allora vediamo di non far cadere il telefono ovviamente bisogna fare la faccia da selfie allora vado a prendere la penna e vediamo un paio di filtrini no? l'ho già tolta come non c'è nessuno qui con te e noi eh ma voi non siete qui siete lì siete a casa non si può stare tutti insieme a farci le foto magari la prossima volta in fiera vi mettete tutti dentro la fotocamera e vi e ci facciamo una foto tutti insieme comunque andiamo a vedere un attimo i filtrini allora lasciate perdere la faccia non è una faccia da selfie questo è il primo di di solito sei tentativi di foto che faccio però però non so se lo sapevate ma i telefoni hanno questa cosa che vi modificano bene le foto quindi ci sono app esterne che potete usare per modificarvi le foto belle eh lasciate che vi dia due due hint da una persona che fa molti molte foto per i social che non è neanche una cosa così vera però sì ecco nel senso me le modifico sempre un botto perché le luci qui in camera fanno schifo però c'era questa cosa mega figa ho scoperto il filtro definitivo che ha questo telefono sì me li sono guardati tutti per vedere come venivo meglio questi sono molto carini dovrei vedere magari con qualcosa che un paesaggio che non ha troppe troppo viola tipo in camera mia è sempre tutto un po' viola un po' colorato c'è sto filtro credo credo sia vagamente un teal and orange ed è guarda che questo è il mio filtro preferito ce ne sono un botto però ho trovato il filtro definitivo la foto cambia completamente ed è una figata se metto questo filtro e mi metto a cambiare tipo a me piace un po' di contrasto ecco mi piace togliermi un po' di luce dalla faccia tipo a zero poi aumenta no un po' di luminosità io vado sempre a occhio diminuisco aumento un po' la temperatura faccio un po' di giochini con la tonalità saturazione a pal no scherzo la saturazione però di solito me la alzo un pochettino no non scogliatrolo ho alzato il livello dell'automod perché mi sa che siamo un po' più esposti però si ciao good time hello filtro bocciolo filtro tea land orange e salva e vado a sovrascriverlo o farne una copia la vado a sovrascrivere però guarda che bella fotina guarda che nasino che ho guarda che bel nasino meno male che oggi mi sono lavata ben bene i capelli no vabbè ma sono senza vergogna ragazzi tanto penso che in molte irle mi avete visto anche in altre inquadrature quindi si volevo il prima e il dopo mi sa che te la sovrascrive basta vediamo di fare questa cosa qui faccio un'ultima fotina alla chat e poi passiamo a vedere un po' di giochini ciao telecamera in alto ah le mie corne no 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 per oggi facciamo di no allora fermi lì datemi un secondo che faccio anche questa cosa qui voilà allora no ce l'ho ce l'ho mi pare che nell'opzione di sovrascrivere o fare una copia ah perché io non sono molto esperta cioè non me lo sono guardato così bene tutte le impostazioni ho molto meglio così l'esposizione resta ferma come neon no ti sei mossa vediamo se la gif vediamo quale frame della gif ha preso il migliore direi ciao mamma sono in un samsung è vero sei in un samsung è molto vero comunque la che mi pare mi pare di capire andando a guardare anche un attimino la batteria sì questa sono io che l'ho iniziato ad usare prima però c'è sta batteria che tipo dura tutto il giorno fermi 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 ok se vedete la gare ripeto è il è il programma la batteria di questo telefono dura un sacco almeno tutto il giorno e ci sono un sacco di impostazioni che potete andare a vedere molto fighe c'è questa in particolare che praticamente fa una vediamo se ve lo posso spiegare come ve lo spiegherebbe una persona dalle mie proprietà di linguaggio poi ve lo andate sicuramente a vedere sulla pagina dove praticamente fa una una addizione di quanto è impostata il telefono quali sono le applicazioni causate di più qual è la condizione di luce che avete in camera quando lo state usando e se permettete al telefono di analizzare queste cose dire ok senti zio fai tu praticamente lui gestisce la batteria e la luminosità del telefono in modo da tenerla sempre in uno stato di risparmio energetico poi ovviamente c'è la modalità fisica che si chiama risparmio energetico mi pare che io l'abbia vista tipo qui eccola qua c'è il risparmio energia però questo telefono permette di fare questa cosa fighissima che vi analizza anche le applicazioni che usate di più e fa questa cosa tipo ok se di nuovo prendo questa applicazione dovresti andare a dormire va bene dai non importa uso meno energia per farti aprire questa applicazione visto che è la tua preferita perché ti voglio bene o no ti controlla oddio puoi anche non farlo io farei fare tutto il mio telefono come dire senti devo fare una foto di notte non c'ho voglia di fare le impostazioni manuali fai te tra l'altro non so se effettivamente questa è una cosa carina se si vede però il telefono ha questa luminosità ed è a questo livello di luminosità ma ve la sparo fortissima vediamo di fare questa cosa di farvi vedere quanto posso spararvi la luminosità in questo menu devo toccare no da da più cioè posso sparare ok questo è livello rosso forse non vi conviene tenerla ha una luminosità così alta perché morite però potete vedere quanto riflette sulla mia pelle se andate di luminosità altissima no Samiofer no a me direbbe ma ancora Genshin ma dacci un taglio tra l'altro io voglio giocare a Genshin Impact voglio almeno aprirlo in realtà perché sicuramente alle 18 ci mettiamo a disegnare perché è è fighissima in realtà la giornata di oggi perché sì il telefono ok però non è tutto concentrato sul telefono perché il Galaxy Creative Fest in realtà è per noi streamer creativi e questa è una cosa che ringrazio tantissimo non è per fare una comparazione però in generale in Italia non è che gli artisti sono le categorie preferite in generale proprio da guardare da seguire da guidare valore quindi quando c'è un brand che dice senti facciamolo per i creativi io sono tipo cazzo grazie mille veramente c'è proprio il grazie più sincero perché ho le mie soddisfazioni ma parlo a nome di tutta la categoria sono molto molto belle queste questi festival per celebrare noi i creativi l'arte e tutto quello che riguarda l'arte perché io sono nella categoria disegno però poi farò anche degli altri ride dopo di me ci sta Codomo poi vedrete anche varie sfumature della creatività ci sono tante persone insomma che vogliono esprimersi ed è bello quando c'è un brand che dice ok ti diamo importanza perché sei un artista e ti voglio esprimere è molto bello ma sono per gli artisti disegnatori oppure anche di altre arti no in generale creativi in questo caso nel mio caso essendo che ho un telefono con un pennino e adesso andiamo subito a aprire un'applicazione dove posso effettivamente usare il pennino io ho preso sketchbook in realtà e ci ho fatto delle prove ma adesso ne faccio altre in realtà nel mio caso specifico si applica e prende la forma di un telefono per una disegnatrice in realtà è per le foto con il risparmio anche della batteria quindi ci puoi fare i video ci puoi registrare cose puoi fare foto puoi disegnare puoi giocare è per tutti i creativi effettivamente ti faccio vedere la sfumatura del disegnatore io allora ho provato l'input lag ed è praticamente inesistente sul telefono no non è vero sono molto precisina c'è un pochino di lag ma sul telefono il lag è inesistente cioè quello che fai con la penna è precisissimo in questo caso specifico di questa applicazione non viene rilevata la pressione però non è dubito che esistano tantissime applicazioni che possono anche rilevare la pressione del pennino visto che il pennino è abbastanza morbido quindi a seconda di quanto premi è proprio una penna da grafico io ho un'altra una tavoletta grafica con una penna con i pulsanti con le shortcut è praticamente la stessa cosa però versione telefono sì questo è USAM no figurati rotto ma ci mancherebbe con le foto che fa anche la fotografia artistica come camera di backup la vedo proprio bene in realtà sì non so se è solo di backup perché bisogna anche vedere con che qualità esporta le foto sicuramente fra i miei colleghi che stanno partecipando al Creative Fest c'è una persona che sicuramente può fare una comparazione migliore della mia rispetto a megapixel i telefoni in generale le fotocamere presenti sul mercato però anche per andare in giro magari con una Steadicam guarda che arrivano fino ai cioè hanno un sacco di qualità ormai siamo tutti in 4K tipo glad to see you still drawing because you had good time and I did to keep it up thank you Carlos thank you very much I'm going to draw even in the second part of the streaming I'm going to use my graphic table and Photoshop so stay 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 here and enjoy the streaming thank you devo dire che i penini di Samsung sono proprio fighi la mia ragazza ha il tablet S7 e la penna è super comoda per scrivere io devo ricordarmi come si cancella perché non è questo il programma che uso di solito ok l'ho trovato piccola sfida vai sfida al volo voi mi dite un pokemon così proviamo la penna voi mi dite un pokemon e io lo disegno a memoria ok vai proviamo ho provato a fare qualcosa del genere in una per i fatti miei per vedere se mi ricordavo qualcosa però non allora celebice l'ho perché fa parte di uno di uno starter pack di 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 sticker che uso sempre celebice dovrebbe essere ups aspettate scusate dovrebbe essere così celebice allora è così c'ha le antennine no ha tipo le mani oh mio dio non mi ricordo ah la sfida è non cancellare è davvero bruttissimo però dovrebbe essere tipo così e poi ha il tutto verdino e tutto marrone e verde chiaro e tipo così vagamente reniculus renic non so neanche chi è proviamo proviamo porigon proviamo porigon porigon no caspita porigon è tipo difficilissimo sento sento di aver già sbagliato perché allora so che porigon ha una testa un corpo che ha degli angoli dritti ecco già su porigon sono messa e ha tipo dei piedini così è giusto forse forse no potevi fare un diglet diglet dovrebbe essere tipo così ok che fine eternatus ma come quale forma questo è un carro armato Roby quanto l'ho sbagliato rispetto al al porigon normale manca solo la coda beh la coda è chiaramente fatta così no bella è questa e tendere a campeggio per fare le gambe hai visto puoi anche metterci il fuoco e i legnetti perfetto ah bella sta sfinge no l'ho sbagliato così tanto madkeep madkeep ce l'ho madkeep è una sfida ma ce l'ho allora lui è fatto così ha tipo le guance in questo modo perché è uno dei miei starter preferiti madkeep non sono sicura che gli occhi siano così ma di sicuro ha questa pinna e boh no forse la guancia non è così grande potrei aver cannato tutto sono sicura che ha questi elementi però non sono sicura che siano della grandezza giusta fatto finito un ditto ci provo ci provo provo a farne il più possibile perché poi quando sono le sei c'è una piccola interruzione piccolissima e dopo vi faccio vedere come disegno veramente i pokemon cioè usando le reference e proprio i disegni Zorua Disui non è neanche fatto così ditto caspita Zorua Disui è tipo ce l'ho è tipo tutto rincagnato perché è selvaggio lui no c'è la no no mi sa che non ce l'ho ah caspita tra l'altro Zorua non Zoroark Zorua no non me li ricordo sembra una patata quel ditto palesemente Primarina caspita è vero Primarina la so già meglio perché ho giocato a snap a 5 snap no no ho sbagliato no è che questa era volevo fare una zampa piccola ok cioè volevo fare questa zampa però poi ho detto no forse lui ha questa zampa però non posso usare la gomma quindi non posso creare delle zampe giuste per questo canguro di pokemon ops ho sbagliato poi dai ditemi l'ultimissimo e poi apro un giochino per vedere come funziona al volo posso farvi vedere Genshin Impact posso farvi vedere anche altri giochi ne ho installati in particolare due che voglio vedere al volissimo allora per esempio sempre farlo ciao Bat Gaia qualcosa di semplice Rayquaza provo a fare cast form versione normale dovrebbe essere una cosa del genere tipo così con una nuvoletta fine e Piplup dovrebbe essere tipo non mi ricordo Piplup è tipo un piccolo pinguino però non è che ha troppe troppe cose no ho fallito miseramente no Charizard no Charizard l'hai censurato sto cast form non mi ricordo com'è beh direi che la sfida è particolarmente riuscita comunque non è abbastanza arrabbiato ok questo è come disegno i pokemon a memoria è un ottimo format per le mie live questa cosa mi è venuta in mente ieri ma reclamo questa cosa la voglio nei miei streaming quindi si Tartwig la prossima volta la prossima volta in live ne faccio tantissimi promesso vi faccio tipo mezz'ora disegno tutti i pokemon che riesco a memoria facciamo sta sfida e si spamma in chat dopodiché ho rovinato tutto con questa riga ah vabbè ci sono questi tasti che io non sono troppo a conoscenza di questi tasti ma il primo tiri su le applicazioni le chiudi io ovviamente le ho tenute tutte aperte non chiudo mai niente quel secondo va al menu principale e con l'ultimo invece torni indietro e volevo provare ad aprire intanto Genshin e poi ho anche scaricato un gioco di Five Nights at Freddyn che ho trovato aspetta per Genshin scusatemi ho subitissimo per voi la inquadratura giusta dovete aspettare solo un pochino ecco qui guarda che bella ah meraviglioso meraviglioso guarda Genshin impatto sul telefono che meraviglia come sempre è comparso il menu della pennina lo trovate qua ma basta che lo trascinate in rimuovi e si toglie io non so se voglio giocare col pennino a Genshin però potrei provarci l'Erican io avevo promesso che giocavamo assieme però ho praticamente 8-9-10 minuti quindi rimandiamo la nostra sessione tutti insieme io mi limito a stare un po' monsta del guardare in giro perché mi sono un po' dilungata sulle foto ti servono due mani S-pen per Genshin allora non so se mi servono due mani perché in realtà mi sono accorta che potevo giocare anche a mi pare che da piccolina io giocassi a League of Legends con una tavoletta grafica quindi in realtà posso giocare dei giochi con la penna che sembra una di quelle cose dove dici vabbè che brava in realtà ho imparato con la penna e poi ho dovuto disimparare e usare il mouse è stato molto strano molto molto strano S-pen per Genshin yes provo non lo so i tasti sono a destra io sono a destra tra l'altro Genshin toglietemi la curiosità vi permette di essere mancini tipo qualcosa del genere è una challenge praticamente perché i tasti sono tutti di qua da questa parte dove ho la telecamera io quindi non potete vedere tutti i tasti però non cioè se sei mancino che fai? allora vediamo che cos'altro da fare a queste monstad questo è praticamente un video esplicativo per farvi vedere bene come gira sul telefono inutile ricordare so che lo sto ricordando un po' troppo spesso scusate la ridondanza però ci tengo ci tengo a dirvi che se vedete un po' di laggino in realtà è il programma perché sul telefono non lagga manco per sbaglio però è giusto che voi non pensiate che il gioco laghi in realtà devo trasmettere questa cosa in streaming e ci sono un po' di passaggi che diminuiscono la qualità però sul telefono è perfetto poi è tipo gigantesco arriva fino alla telecamera il gioco cioè io metto il ditino sulla telecamera quando gioco e così nessuno mi può guardare dal basso mentre gioco faccio un paio di attacchi mentre Raiden Shogun meraviglioso incredibile faccio due saltelli si nota che un po' che non entro quindi ne approfitto di questo momento Genshin Impact per andarmi a prendere un po' di premi perché effettivamente sono tutti contenti che sono tornata su Genshin perché purtroppo è un po' che non magari faccio un pull allora fermi però esce Yae Miko giusto ho sette di look esce Yae Miko tra qualche settimana tra una settimana credo quindi io ho fatto un 50-50 adesso un 100% di pull vorrei pullare lei non mi azzardo a pullare niente che si avvicini al PT però non so se posso resistere adesso andiamo Roberta Mirko se hai un cavo USB ci puoi collegare il telefono tramite Samsung Dex così non lagga Lerica nel caso si può giusti scrivire anche tu ma in realtà sai Mirko che ci ho provato perché mi sa che in questo momento io sto usando l'applicazione di Windows che si chiama il mio telefono praticamente se avete un Galaxy o un telefono insomma compatibile con Windows e cose del genere Windows ha già dei programmi per farvi trasmettere il vostro telefono a schermo che non è per niente male è una figata io lo uso per streamare però si può fare in generale per qualsiasi altra cosa quando invece uso Dex quindi c'è un'altra applicazione per creare uno schermo sul computer ma è il tuo telefono è molto difficile da spiegare non trasmette esattamente quello che faccio ma duplica lo schermo del telefono non so come spiegartelo magari un'altra volta ti faccio vedere questa cosa perché ci ho provato ma Dex funziona in un modo un po' diverso in realtà tra sei giorni tra sei giorni ah va bene va bene allora mi prendo un pochino di tempo per giocare iniziamo a fare i claim di tutti quanti i nostri oggettini allora la ragazzi cosa mi sono persa di Genshin Impact esattamente potete oh no oh no oh no non voglio fare questa cosa cosa mi sono persa di Genshin Impact in questi giorni qual'era la cosa importante che non ho visto sicuramente non ho pullato la tipina fantasmina io Dex lo uso per copiare i file da telefono da pc e viceversa abbastanza comodo sotto questo punto di vista non devo collegarlo via cavo ah lo puoi fare anche con il mio telefono però eh cioè è una cosa che volendo potrei prendere le foto che ho fatto alla chat esportarle e metterle solo per i sub esclusive lo faccio meglio che tu non lo sabbia hanno dato un vestito gratis hanno dato quattro vestiti gratis hanno fatto come come possiamo dirlo in un modo carino hanno vestito le signorine solo le signorine hanno pensato che fosse meglio diminuire la quantità di peso specifico che una signorina deve per proprietà di proporzioni portare appresso e hanno pensato che la temperatura in tutte le città insomma a Teviat fosse un po' troppo bassa e quindi dovessero non soffrire il freddo diciamola più così purtroppo ci sono persone che non riescono io non l'ho capita questa situazione però ho preso tutti i vestiti sono anche andata a vedermi tutti i modelli oh si parla sono andata a vedermi anche tutti i modelli tipo un po' un po' ricostruiti tipo ember mi pare di aver visto ah posso zoomarla anche col telefono urchia io non la sapevo questa cosa è fighissima posso prendermi il modello e copiarmelo pari pari metti che devi fare tipo cosplay e ti vuoi guardare le cose cioè non serve averlo su computer posso guardarmi tutti i dettagli del vestito dal telefono non lo sapevo questa cosa sono sincera è il cambiamento climatico in sostanza le hanno messo la lingerie dovrebbe essere qui il cambiamento che è avvenuto nella zona davanti infatti se faccio così un po' più velocemente vedete che il busto è un po' più coperto ed è più coperto anche il dietro su ember si è stato abbastanza minimo il cambiamento più palese mi pare che sia su rosaria dove hanno proprio detto che non era il caso che un pg del genere venisse creato perché questa è la sua skin base che tutti conosciamo che tutti amiamo e questa è come l'hanno cambiata hanno pensato che potesse avere un po' troppo freddo effettivamente zoom una sola mano anche no dai Tony troppo vestito o s vestito vestito ultra 22 dai andiamo a fare un paio di cosine così andiamo a vedere se sono ancora in grado di usarlo io non sono bravissima su Genshin in generale tantomeno col telefono però direi di almeno andare a curare di look e tutto quanto ho anche aumentato il il mondo quindi adesso sono un po' sottolivellata rispetto a quale dovrebbe essere il mio vero livello purtroppo avrò davvero tanto bisogno di amici che mi carriano scusatemi però è vero sono tremenda non ho neanche uno al 90 di di Genshin ho tutti i personaggi all'80 allora se io mi avvicino non avendo Barbara ecco qua me li dovrebbe curare tutti perché poi pronto non me li cura tutti 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 quanti se si è buggato che succede non ah ecco non me li curava tutti meno male che comunque hanno lasciato la la scelta si no chiamato no giocheremo poi una una sera a Genshin tutti insieme allora vediamo un attimino anche le le cose del battle pass e tutto quanto eccolo qui non mi fa rivedere il video volevo vederlo come si vedeva sul telefono un attimo eccolo qui no non mi fa ripartire il video va bene non gli importa andiamo a vedere i pool andiamo a vedere i banner c'è la zong lì e ganyu porca miseria caspita però ganyu la volevo quanto sono vicino al piti mamma mia allora loro li ho tutti non mi interessano anche young fakes in più però caspita qualche costellazione mi servirebbe ganyu mi serviva va bene dai va bene faccio finta di niente non posso avere tutti i personaggi credo non lo so so che sarà lì a tutti sarà farmo un botto allora andiamo a vedere come sono un po' le texture i combattimenti dovrebbe esserci qualche cinghiale qua a giro qualche mostro non mi ricordo dove si possono trovare dei mostri fattibili da combattere adesso che ho genshin da telefono forse lì c'è un cinghialozzo vediamo aspetta oh 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 ci provo vado vado a sconfiggerlo no dai madonna ma sì scusate coni grazie del ride benvenuta io che ho il mondo super livellato e vado a sfogarmi sui cinghiali ma si può poverini che non hanno fatto niente questi sono gli scandroid questi sono assolutamente gli scandroid bravissimo sto usando tra l'altro l'applicazione di twitch per la mia playlist sint di oggi e ma coni trombetta ma bellissimo quindi gatto ha preso le moti con trombetta piccola digressione è molto importante questo evento scusatemi ma coni trombetta bellissimo voglio Raiden non ancora che bello chic trombetta oh carino carino va bene allora devo trovare qualcuno al volo prima di prima di interrompere poi tra l'altro ho anche scaricato un gioco sul telefono che se non vediamo oggi lo vediamo in generale perché non sapevo ci fossero giochi di Five Nights at Freddy dopo il primo tra l'altro sapevate che il primissimo gioco di Five Nights at Freddy è uscito tipo su telefono cioè non so se avevamo mai parlato di questa cosa sicuramente ho fatto degli approfondimenti sul brand di Five Nights at Freddy ma non ricordo se questa nozione la sapete tutti ma il primissimo gioco è nato sul telefono quindi c'è la prima versione del gioco del primo sul telefono e poi da lì hanno fatti un sacco fra cui un gioco che si chiama Five Nights at Freddy VR oh eccoli là vado a prenderle vado a prenderle di santa ragione no dai no dai reggo posso farmi le daily fuori casa ho un po' paura di far vedere la mia nettitudine con le mani con Genshin però l'ho fatta con i grazie mille dei 46 mesi di sub impossibile trovare qualcosa di originale da dire dopo 46 mesi un saluto a Valentino Rossi che seguivo sempre va bene perfetto chiarissimo oggi ho che il Captur sta allangando un botto si ragazzi il cioè l'unico modo per farvi il comparison è qua con il telefono che tra l'altro sta farfallando il Captur a questo proverò il Dex come trasmettitore da telefono però per ora il mio telefono si è rivelato gratis si è rivelato gratis non male per trasmettere il telefono in streaming a tutte le persone che usano il telefono lo vogliono far vedere in live attenzione solo solo Galaxy e compagnia è il sistema operativo unico compatibile con l'applicazione sul telefono vi consiglio il mio telefono che è l'applicazione già presente sul computer e da lì in realtà potete scaricarvi le applicazioni per disegnare e potete fare delle challenge tipo appunto quella di cui io però reclamo tutte le proprietà disegnare a memoria di pokemon oppure provare tutte le applicazioni di disegno nel caso voi non vogliate scusatemi passo di nuovo webcam nel caso voi non vogliate per forza usare magari una tavoletta grafica è molto figo è compatibile dovete stare a cercare mille siti web per cercare di capire come trasmetto il mio telefono io l'ho fatto in questo modo è molto figo che sia così facile cioè ho cercato sul computer ha già installato ha delle proprietà particolari per fare ho una domanda ha delle proprietà particolari per fare dei video allora sì perché prima di andare a disegnare assolutamente sì praticamente il telefono non vi permette di avere delle foto mosse in che senso vietato fare delle foto mosse in questo telefono nel caso voi vi azzardaste ad avere un piccolo tremolio di mano non vi preoccupate che il telefono anche col suo grand'angolo è fatto apposta per togliervele e fare il video e le foto in modo più stabile possibile io dico video perché sicuramente quando andrete a provare il telefono tutti quanti video vedrete da soli quanto è figo io volevo montarlo su una stilicam giuro mi ero organizzata però no time sono una chiacchierona però sì potete potete stare tranquilli che è tutto stabilizzato grazie anche mille del reminder no fotomosse mannaggia mo lo compro solo per fare le fotomosse vai challenge fammi una fotomossa con il Samsung S22 Galaxy Ultra Ultra perché io ho l'Ultra però no penso che comunque tutti e tre i nuovi modelli abbiano tutti integrati questa questa funzione e va bene allora se avete qualsiasi altra domanda io sono a disposizione con i tasti in chat a passarvi ho sbagliato io sono una chiacchierona ho ritardato io scusatemi per qualsiasi domanda sul telefono resto a disposizione tutti i moderatori hanno i pulsanti abbiamo tutte le pagine per farvi conoscere questo telefono nel miglior modo possibile ma adesso è il momento che io mi metto a fare la creativa con i programmi che io uso sempre quindi penso di essermela cavata con un brand new modalità di disegno e strumento per disegnare ma faccio più bella figura quando uso le cose a cui sono abituata che bomba di transizioni ti piace? ti è piaciuto anche il più ok allora vado a lavoro a dire che staccia no tu ne hai chiesto il mega disegno io nel dubbio ho aggiunto tutti i comandi nel titolo no 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 Larry can puoi toglierli dal titolo è essenziale che siano che vengano spammati nei momenti giusti il titolo è giusto è giusto così non ti preoccupare Roby mi hai tolto un anno di vita era fortissimo pensavo fosse battita la pubblicità no mi dispiace ma io avevo controllato che fosse il volume basso e da me era normalissimo ma come si spiega questa cosa io scappo e torno fra una mezz'oretta sarò ancora qui sarò qui fino alle 19 però ti perdi gli spoiler dei disegni massimo 10 minuti e sono qui di nuovo e vai allora per tutti quelli che rimangono per tutti quelli che sono qui e siete disegnatori eccetera eccetera allora ragazzi parliamoci chiaro parliamoci chiaro si parla solo di una cosa questo mese ok non accetto nessun altro tipo di argomento come non accetto le foto mosse sul Galaxy S22 Ultra sono più alti del solito ma non altissimi meno male meno male ok e mentre mangio un mandarino vi dico allora ho pensato al prossimo disegno da fare e mentre lo faccio voglio rappresentarvelo perché comunque è come presentare una nuova sai no creazione un bambino che hai mandato a scuola e adesso è laureato e quindi è un lavoro e tu vuoi dire alle cene guardano come sono orgogliosa e voglio mostrarvi un'anteprima del disegno che sto preparando che ricorda un po' un altro disegno come potete vedere formato poster e con tre starter che ormai ha un bel po' di giorni dal day one abbiamo visto tutti le nuove forme non è più spoiler io li adoro quasi tutti e li voglio disegnare e penso di volerne fare un poster e penso di volervi regalare a voi sub la versione wallpaper la versione i pokemon singoli la versione tutti insieme e sarà uno di quei disegni molto belli luminosi però con sfondo nero tipo i tre uccelli leggendari di Galar no Robi no è un attimo è andata qualche settimana credo non lo so mancano tipo 20 giorni qualcosa del genere non dire queste cose e lei d'interno perché si potrebbe parlare d'altro ah già stasera è vero alle 23 alle 23 me la guardo oggi sono insieme in Samurai in Tefluccio un depresso e di cose con le braccine e un cappello rosso allora Mirko allora facciamo una scommessa facciamo una scommessa io sono certa al 300% di aver completato una posa dei colori l'ho un po' interpretato ti farò amare questo Desi 2i dammi la mano vogliamo scommettere dei soldi allora se non vi ho convinto regalo di Cisabin Live se quello che ho disegnato ancora vi fa dire che è una bruttissima versione di Desi 2i io regalo di Cisabin Live datemi la manina ne mancano 16 mancano 16 giorni di Typhelusion non l'ho ancora fatto quindi forse la posa ti può convincere Samuroth l'ho parzialmente finito cioè posso farvi tutte le tre pose Desi 2i è completo e finito e stringe mano non così Samofer devi darmi la mano dobbiamo fare una scommessa cosa cosa tocca Goblin non si ma come stringete le mani voi a casa io non riesco a staccare mi sa che rimango allora questo è come vedo io il mio Desi 2i visto che lo amo allora credo di aver trovato la posa perfetta e sono così orgogliosa di presentarvi parte del nuovo disegno e mi piace tantissimo abbiamo delle mali limitate per stringerle non è una posa solita non fa queste cose perché lui sta ben piattato a terra ma ho scoperto che si tira il cappuccio fa delle robe cioè io so che è di tipo lotta però l'ho visto anche usare verde bufera quindi ho deciso che farà delle robe con le foglie con le piume con le mani però dai non dirmi che è brutto non dire che è brutto ma che bello così mi fa proprio schifino Denzyro allora rinuncia al tuo wallpaper di Sub quest'anno questo mese e passa al mese prossimo e a te regalo di C-Sub e vabbè ora piace anche a me così sì che ci sta almeno non sembra pronto per la siesta ah quindi e vabbè allora era un po' il modello 3D perché in realtà Dessidio EA è davvero un Pokémon figo più lo guardo più penso che limitarlo sia stato il chiudere le sue ali in modalità Poncho perché credo che sia stato quello che ha un po' limitato il vero potenziale di questo Pokémon io adoro mi piace davvero tantissimo prendere design dei Pokémon e rimescolarli e quello e fin da quando sono piccola e faccio l'illustratrice piccola da quando ho 18 anni che questo tipo di design mi ispirano e mi metto a creare cose nuove diverse nuove pose nuove situazioni soprattutto per valorizzare dei soggetti che penso che abbiano un sacco di di potenziale che non è sicuramente espresso lo metti in questa posa però sono sincera non vedevo l'ora di mostrarvelo perché mettermi a disegnare ancora una volta i Pokémon e farlo nel modo in cui mi piace di più perché questo è il mio stile preferito sfondo nero luci posa dinamica questo è il mio pane non persone vere non paesaggi questo mi dà una gioia indescrivibile mi ha fatto un cavolo l'ha fatto rosso perché è un po' la versione autunnale diciamo stupendo grazie dei complimenti sono squisice che mi piaccia la 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 composizione non si ferma qua in realtà perché oltre a lui che al momento è solo disegnato poi dovrò un attimino spostarlo vedere se specchiarlo di segnarlo meglio sto finendo Samurot non è ancora completo perché è come in questo caso io non ho nominato neanche un livello però è il mio modo di fare le cose è come se fossimo a questo livello qui e basta più o meno con Samurot vagamente perché Samurot non so che cosa fa di illuminare sinceramente grazie Carlo del raid benvenuti hello amici spoiler che belli questi pokemon nei livelli non si nominano mai io ti ho già visto fare questi effetti a nero ma ancora mi chiedo come cavolo fai ci sta anche in siesta col sombrero il viso coperto ma allora in realtà se fosse a tema siesta il pokemon ti direi sì però è più giappone medievale quindi un po' la domanda ci sta però io ho imparato ad amare questo desiderio visto il typing nulla buon pomeriggio tarlo buon pomeriggio amici di tarlo che vi siete uniti al raid benvenuti in questo streaming speciale sarò in live fino alle 7 e stiamo praticamente disegnando vi sto facendo vedere la nuova composizione del mio nuovo poster che voglio mettermi a vendere ma a regalare a chi invece è sub e ho finito siccome si fan dei pokemon sono io ho finito quello che desiderio ai un giorno magari vi metto mi metto lì a spiegarvi come si fanno dei livelli perché comunque è una tecnica che io un po' nel tempo ho capito è il consiglio che do in realtà sempre creativi devi cercare di capire cosa ti piace e da lì devi continuare a rifare quella cosa e aprire delle ramificazioni di quella cosa specifica che ti piace a me piacciono i neon a me piacciono le luci in un environment scurissimo nero come potete vedere i primi tentativi sono stati quelli che sono stati riguardandoli adesso comunque è qualcosa che mi dà tantissima soddisfazione tanto che adesso ci faccio vedere al volo per chi magari è qua per la prima volta oh no aspetta no la siesta veramente l'aner che mi ero completamente dimenticata oh no cosa hai scritto aspetta aspetta stream teamlabs ti leggo subito è che non so perché ma devo aprire da un'altra parte le donazioni e tutto quanto perché non mi fa vedere sui feed eventi recenti eccolo qua mi sarei aspettato un desiderio che ballavo in messi o comunque presemente supporto che lancia sub con quella posa lo messico ah oh grazie lo scoiattolo grazie mille del balletto totally unexpected ma neanche così tanto la siesta la settima grazie mille della donazione tra l'altro molto gentile come vedete questa è la mia tecnica preferita di disegno io non posso farne a meno infatti per questo disegno in generale questo disegno specifico mi sto un po' ispirando al poster dei tre uccelli leggendari di Galar ricordiamo Arikuno ho fatto un typo sul poster ufficiale in vendita quindi vabbè lasciamo stare però i primi esperimenti sono stati un po' questi nel senso sì posa dinamica però io qui ci vedo sinceramente una marea di errori sono contenta di essere un po' migliorata qua era già un po' carino però queste linee sulle ali non mi piacciono quindi piano 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 ho continuato a disegnare con questo effetto che a me piace tantissimo qui già più o meno avevo raggiunto quasi il livello 3D che cercavo secondo me questo è un bel passo avanti sembra proprio un po' in 3D però ce l'ho lasciato la lineart perché senza la lineart era un po' strano cioè è comunque un pokemon i pokemon hanno la lineart perché i modelli 3D secondo me non rendono per niente il vero potenziale del design del pokemon e quindi ce l'ho lasciata se fai una collezione nft fai i milioni io in realtà vi dico non sono per niente interessata a questa questione anzi più mi informo questo mi sa che è scaduto più mi informo più mi sembra qualcosa davvero di talmente eclettico e basato su cose tendenzialmente che non seguono non fanno parte di me non me ne interesso ma la quantità di mail che mi arriva ogni giorno per chiedermi di fare roba per poi venderla e farne diventare un nft è davvero assurda per niente la prima persona che me lo chiede al momento io non non sono assolutamente interessata quindi lo lo terrò per quello che è la mia arte le mie cose che regalo ai sub quindi sarete tutti possessori di una copia unica del mio wallpaper Samorot in questo caso adesso siccome sto andando anche un po' a concettualizzare il coso io ho visto non è il mio non è il mio starter non sono del team Samorot non riesco a capire da dove far uscire la luce perché se è solo il corno è un po' limitante nel senso non ho capito con cosa attacca a volte apre la bocca ed escono cose però comunque ha addosso delle robe con gli spuntoni che non gli vedo quasi mai usare poi ha quella coda non capisco bene il design di questo Samorot infatti non è tra i miei preferiti anzi è l'ultimo posto fra i tre e non riesco mai a comprendere il design secondo me è pieno di cose che non gli servono ed è per quello che non riesco a trovare il vero potenziale nella sua posa e in qualcosa da illuminare mentre per esempio in DC2i ho visto che erano le mani il vero fulcro e questo dettaglio l'avevate mai notato ripeto che si tira il capo tira qualcosa ha un filo e lo tira e io non me ne ero mai accorta fino a poco prima di fare questa posa e in Samorot sinceramente non so bene a parte il corno che cosa fare attacca con le conchiglie facevo con la conchiglia in mano potevi illuminare quella la testa di Stavano non mi piace io sono la team Samorot siiii chi ha detto quelle tre lettere eh no si vede quanto sei migliorata grazie Ben mi spiace che stai ritardando al lavoro per colpa mia quei tagli nerosi sono spade e conchiglie però quando vedo l'animazione non glieli vedo proprio usare però questo è quello che mi convince di meno ma tra tutti attacca coi baffi come Tarlo che balza incredibile con lo stile un gentilissimo grazie mille sono contentissimo che vi piacciono ragazzi scusatemi non ho pranzato sto mangiando queste calorie in fretta e furia perché ho dimenticato le mie priorità ma il pokemon che statisticamente piace più di tutti è Typhlusion e Typhlusion è il pokemon luminoso per eccellenza quindi io mi aspetto da me stessa di fare un capolavoro ho scelto la posa e mi piace tantissimo e sono sono molto fan di questa cosa che ho disegnato perché lui sarà il punto più alto della composizione del disegno saranno Samuroth che pianta i piedi a terra Typhlusion vola però mi prendo la licenza poetica ok sta saltando in alto e secondo me con quelle fiamme mamma mia che combina è bellissimo è già bellissimo così già lo amo in questa nuova posa aspetta come come le folle dell'imperatore non questa questa non questa questa vincente perdente perché eh non so guarda come come vispo qui è sempre emo eh non gli ho cambiato la 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 cosa il taglio dell'occhio è emo e ha le orecchie all'ingiù un po' più sollevate per il salto però secondo me con questo c'è le grandi faville e quando mai mangia quei dettagli neri rossi ah no scusatemi che smirk nello screen sembra che stia facendo brutto con le braccia quanto amo questo pokemon il mio primo stato oh sì il pokemon depresso allora in realtà mentre mi metto qua a disegnare un attimo parlavate di cambiamento di stile tarlo tarlo sei sei un mio collega no ma dimmi un po' dimmi un po' tu hai mai quella sensazione dove tipo ti riguardi un po' tu ti disegni all'indietro e dici madonna che schifo adesso come sono migliorato oppure una roba che un po' in questo momento mi sta dando un bel bag e attacca a più in realtà è tipo wow come stanno migliorando tutti gli altri io mi sento un po' ferma perché credo che coi neon me la sto cavando bene però sinceramente vedo tante di quelle persone migliorare imparare a fare animazione che ogni ogni persona creativa ha il diritto di prendersi le tempistiche che vuole imparare tutto quello che vuole perché non c'è un limite sento però con questa cosa dei social faccio un po' la boomer la pressione del confronto con gli altri e non so se è una roba solo mia se è una cosa di cui posso condividere con gli altri tipo ma te ti senti tipo che gli altri sono migliori di te anche se fanno una roba completamente diversa perché quando lo penso mi sento un po' al liceo e quindi dico vabbè ma guarda gli altri come sono adulti e lasciano perdere disegnando così poi mi metto un sacco e poi mi ha una dignità ciao bronco sempre anche con i disegni che faccio attualmente penso sia normale che ci si sente sempre indietro rispetto agli altri però sai che era è una cosa che quando stavo tipo al liceo cioè io mi uber analizzo non è una cosa che ha sempre fatto parte di me secondo me un applauso i moderatori io avrei bannato bronco oggi un applauso ai usa perfetto costantemente Roby ma l'uso per darmi una spinta come fai a farti dare una spinta no è una è una una richiesta sincera la mia perché io secondo me quando stavo al liceo era tutta una questione di prendere i voti io ho fatto un liceo artistico comunque tutta la mia preparazione artistica è qualcosa che ha sempre fatto parte di me fin da quando ero piccolina l'ho soltanto poi studiata più a fondo però sentivo meno sentivo più la pressione del madonna devo portare un bel voto a casa ma non degli altri sinceramente non mi mettevo a confronto con gli altri non mi importava perché lì era fare bella figura col professore più che con le più che con i compagni cioè la tua reputazione nel liceo non era da quanto disniavi bene ecco sì esatto sono dovuto scappare in farmacia alla fine lunghissima ma ora sono tornato ansim ansim sono assolutamente non ti preoccupare cioè sono assolutamente perdonato e mi dispiace che ti abbia fatto la coda in farmacia anche io dovrò farla domani facciamo il confronto con robe che magari non c'entrano proprio con il nostro stile quando stavo quando stavo liceo ma mi inizia a fare le retrospettive come se scrivesse il mio libro autobiografico è stato un po' più semplice trovare il mio stile perché sono riuscita anche in realtà con un po' di sensazioni e cose negative a capire tutto quello che non mi piaceva e quello che mi ha fatto scoprire davvero come volevo essere creativa usiamo questo termine oggi che è proprio il giorno esatto per farlo è stato perché ero ero un po' esasperata in questo momento non ho nessuna necessità di sentirmi esasperata e forse è per quello che ho un po' perso il motore la spinta che avevo all'inizio adesso è un po' più complesso destreggiarsi sui social capire anche gli algoritmi capire se vuoi disegnare qualcosa tu oppure stai disegnando qualcosa che gli altri vogliono sono tutte cose che io cerco di tenere sempre sotto mano perché non voglio che succedano in sordina nella mia testa voglio essere sempre consapevole di dove sto andando e perché sto disegnando tutte queste cose e c'erano e nella sofferenza di dover fare io facevo vittura dal vivo modellato e architettura mi sono un po' tirata fuori da questi tossini dicendo perfetto la lista cosa non voglio fare le case cosa non voglio fare donne svestite vere non ero capace imbarazzante davvero imbarazzante non riuscivo a fare niente del genere e la cretta io penso in 2D queste persone erano fissate perché era il liceo dove andavo io purtroppo non sapevo di essere un outsider con le cose vere e io creavo solo cose finte creavo cose che non esistevano e quindi ero tipo no come si fa la faccia di una persona tipo sim camomilla grazie della sub grazie mille benvenuto guarda il lavoro degli altri vedo che sono migliori dei miei anche per piccolezze analizzo quelli che mi sembrano errori e ci lavoro su per migliorarmi o imparare cose nuove è meno poetico di quanto sembra mi costa ansie simili ma il 70% delle volte vedo i progressi e mi viene più facile imparare così e sei molto molto filosofico cioè è una è una bella filosofia è molto molto lucida come come analisi la tua tra l'altro hai una pagina o qualcosa comunque ho scoperto questo nuovo social oh mio dio come si chiama ha un nome questo social ed è il social del momento dove stanno andando tutti che rende super facile tipo conoscere delle persone che fanno hanno il tuo stesso lavoro hanno le tue stesse cose perché ti infili in quelli che si chiamano tsunami e praticamente finita negli stessi gruppi di cose condivise è tipo instagram però è come se tu su instagram facessi parte di alcuni gruppi che hanno un tema e vedessi solo cose di quel tema non delle persone che segui godpesh saluto vedoci prima di andare a fare live tweeting stai lavorando a moonboy di isui allora godpesh allora allora ragazzi emiliano è imbarazzante c'è stata una sera che ha twittato sono al mio decimo shiny dopodichè ha retweetato se stesso sono al mio undicesimo shiny e ha retweetato se stesso sono al mio dodicesimo shiny vergognoso illegale bannato non deve più scrivere qua quando facciamo le live di pokemon perché ha trovato dodici shiny e io non ho parole oh scusate 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 oh grazie grazie mille possiamo fare un piccolo applauso alla chat che in questo momento di mille cose da cui tenere mi aiuta a tenere d'occhio i vari messaggi grazie mille chat siete troppo buoni con me grazie e intanto ho 7 emiliano comunque bravi grazie vi dedico questo non mi fai pensare i dodici unici si si non è che ha trovato sempre lo stesso cioè dopo un po' è tipo allora comunque li ha trovati tutti brutti cioè c'è da dire che i suoi shiny purtroppo sono brutti non esiste un pokemon brutti no 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 esiste un pokemon brutti esistono anche shiny brutti e li ho tutti verdini però si scusa volevo aiutare scusa volevo aiutare no no siete stati gentilissimi grazie grazie mille ho tutto a schermo però col cervello sto tipo parlando di una roba e non ho guardato altre cose che avevo sotto mano però si e li ha cercati o a caso allora non l'ho capito in questo specifico pokemon gioco pokemon puoi avere più possibilità di trovare la versione shiny di un pokemon se completi la sua pagina del pokedex e se vai a vedere se ti butti dentro quelle che si chiamano orde avvistate dove possono spawnarti 10-15 pokemon e quindi c'è più possibilità che uno di quelli sia shiny bellissimo fighissimo non succede sempre a me a me è successo live ieri però di aver trovato uno shiny l'altro ieri ed è stato incredibile e gli shiny che ho trovato in miliano però sono tutti brutti perché sono verdini a me piace hanno sempre detto gli shiny che giocano un po' su neutralità del nero dello scuro con questi colori che sparano e lui ha trovato dei pokemon che praticamente sono il loro stesso colore ma se ci metti un filtro giallino tipo seppina sopra hai fatto la versione shiny è pigro è un design pigro di uno shiny e non capisco perché questa scelta ma poi in sto pokemon è pieno di shiny pigri tipo goldak goldak hanno cambiato il becco e basta io ho fatto 9000 risette per trovare le cose a shiny ismeraldo vabbè ma te sei un eroe scusami madonna 9000 a volte le persone che giocano a pokemon hanno veramente una perseveranza ci sta una missione dove devi trovare un weasel enorme e io dopo 5 o 6 catture ho detto vabbè lascio perdere ed emiliano ne ha cattura tipo 35 36 non è verde è verdino cricketune la versione scena è verdina è quel verde brutto il verde coleottero bleh pikachu è gialletto giallo arancionino paras fa schifo paras fa schifo a prescindere odiamo tutti i paras in questo gioco ok è terribile ho fatto una run sullo shiny e mi serviva cosa hai fatto vabbè ma sei pazzissimo tutta la prima gen è di quel giallino ma cricketune non è della prima gen la prima gen quando possiamo ricolorare mettevano davvero un filtronoso verde sopra erano pochi quelli ricolorati verdino io oggi ho trovato hypome hunter pregato che forse mi sia bugato il gioco e devo rifare tutto da capo però se salvi un poco prima puoi riprendere lo shiny non chiamarlo verdino non chiamarlo super dende supremo ciao mimi tutto bene grazie tu come stai oggi siamo creativi parliamo di arte parliamo di design di cose eccetera mentre disegno quindi se volete vi do anche un paio di tip tanto abbiamo già finito i colori sono due colori quindi non è che ci stava troppo da e quindi ma il turno del fuoco ci sono state novità beh la novità di oggi è che stavo per far cadere un selfie stick novità che ho un gatto che oggi è il galaxy creative fest e celebriamo noi i streamer creativi e di questo sono contentissime dopo di me altre due streamer la prima è codomo una tipa yeah siamo sempre contenti di dare le tipe altre novità sono che ho un telefono fighissimo sul tavolo che vale più di me e me messi insieme che ha una penna dentro e prima nella live ho fatto un po' vedere tutto quante le funzionalità velocissime perché io almeno col telefono nuovo mi ci metto sempre ore e ore a smanettare quindi persino io ho giocato a pokemon smeraldo ho perso la vantaggio e non l'ho mai finito come come no perché il nuovo selfie stick in sostituzione di quello rubato non era rubato diciamo che ho dovuto per necessità consegnarlo mi hanno minacciato di non farmi entrare a dismaland se non avessi dato lo selfie stick quindi si allora taiflosion isui vediamo un attimino il fuoco ben bene e allora io mi metterò un po' contro questa tipologia di fuoco nel senso io ho visto come fanno le varie fiammelle anche in altri pokemon di questo genere e ho visto tipo le fiammelle 3d di ponita mi sono fatte un po' meglio qua mi sembrano dei tentacolini ho capito il senso ho capito che volevano sembrare tipo spiritini però sembrano proprio dei tentacolini e secondo me quando vai a disegnare del fuoco non possono essere tentacolini devono essere belle fiamme ciaddone capito nostri tentacolini quindi io ho aumentato il numero di fiamme gliele ho un po' smosse quindi sono un po' di più e un po' più dinamiche e adesso vedo che inventarmi perché comunque neanche il colore mi piace troppo quindi inizio col dare una piccola sfumatura dove dovrebbero esserci i biuchi da cui escono le fiamme e poi vediamo come continuare questa questa cosa provando anche a darvi delle piccole lezioni a spiegarvi cosa faccio nel frattempo non sono sono più abituata a parlare così tanto quando disegno di solito seguo il flow no no mi si è buggata la missione delle fiammelle non mi appare la secondarian numero 10 della bacheca ah ma è questo pokemon porca miseria e ma oh no io non la nintendo la switch ha anche un display fuori ehi ragazzi ma lo sapevate cosa fa rima con renna beh io sono cosa fa rima con renna ciao seismic sei tornato tutto bene questo è un periodo molto impegnato per me faccio un botto di live raitografi fa rima con renna sicuramente che palle l'erican cosa fa rima con renna vediamo che altro esce no sto utilizzando photoshop so usare illustrator tra l'altro sono molto curiosa di usare illustrator come app su telefoni e tablet ma per ora preferisco sempre la versione photoshop anche se adobe sketch quindi la versione non per computer ma portatile chiamiamo così come app è ha molte cose davvero incredibili devo fare assolutamente una live dove disegno solo con illustrator sketch perché ha una funzione di penna che riempie gli spazi dove vai che è incredibile faremo con penna anche video faremo con renna sono risposte sbagliate però oggi allora questo fuoco però mi sa che va un po' dietro è molto utile che io mi tenga lo sketch perché a volte non mi ricordo neanche io come ho deciso di fare le cose che devono essere esattamente come le ho pensate nel momento in cui avevo la vena creativa se no tutto da buttare allora io direi che per ora il fuoco va bene così tanto poi mi metto a stocchicciarlo tutto prendiamo il colore originale e vediamo cosa farcene blocco quello metto un lucchetto piccola lezione di photoshop mettete i lucchetti ai livelli che non volete che siano toccati così non ci scrivete sopra come l'ho imparato con l'esperienza e con gli errori molti errori Mimmi 6KO cosa hai fatto che è successo no no dovrebbero essere tutti completi anche per tutti i dispositivi ah renna e penna i tornatagoni allora questo è il fuoco davanti e dietro ma vediamo dove metterlo e vediamo come rende sul nero boi bellissimo bellissimo allora adesso bisogna fare un calcolo nel senso vabbè ma faccio una cosa figa solo perché sono in live e così no faccio finta che è tutto fighissimo in realtà non è così semplice mettere un bagliore però con due cosine posso farla sembrare una cosa ancora più figa quindi facciamo così ecco qua così sembra ancora più figo ma che cosa rende qualcosa di luminoso è il fatto che tutto il resto sia un po' più scuro quindi avendo adesso definito dove sta la luce io mi devo mettere a a parte colorare l'occhio di che colore è l'occhio di time aspetta il colore è nerino poveri livelli rapidi anche io metto un look all'armadietto per evitare che mi ci scrivano sopra è vero è molto vero grazie silver africotte l'occhio della madre no harry potter emo no seriamente di che cos'è un giallino lo decido io mi prendo sta licenza poetica decido io il colore facciamo boh faccio blu mi farei un riflesso viola arancione pierferdinando molto bello il colore pierferdinando beh io magari lo faccio così e poi ci metto appunto il riflesso del fuoco allora andiamo a fare l'ombra le ombre io per quanto riguarda questa nuova cosa di stile no questo nuovo metodo che sto utilizzando prendo un pennello molto largo gli tolgo tutta la spaziatura e vado a fare un pezzettino alla volta tenendo sempre conto di dove sono le fonti di luce quindi questa zampa è un po' più indietro ma comunque illuminata da sopra quindi prima ancora di fare ombre nel dettaglio vado a fare questa cosa qui e siccome è un po' che è un tondo vado a fare anche togliere un po' di luce da qua tipo un po' più nel dettaglio non falli proprio gli occhi come? ma no tondo faiero color rosso color oro ma gli usano ma gli dici? vi racconto comunque al volo questa cosa di ieri visto che molti di voi non hanno visto cioè siete seguitori delle horror night e non non siete stati accontentati ieri notte c'è stato un bug questo bug non faceva comparire dei robot all'interno di un livello in cui dovevano esserci tipo sentinelle che dovevano rendermi un po' più difficile camminare in quel percorso e per questo motivo non si triggerava un evento quale il spingere un bottone per poi ho scoperto far attivare un video che ci avrebbe portato in un'altra zona e per questa cosa rischiavo di buttare tutte le ore di gioco che ci avevo messo perché non avevamo idea di dove si fosse rotto il gioco perché è pieno di bug ok però finora ha funzionato a meno che non si non c'erano delle piccole cose tipo la luna che si era tipo non è che scomparsa però c'era uno degli animatronics che all'inizio dove c'era un livello di difficoltà si era bloccata in un punto non si muoveva quindi è andato un po' a nostro vantaggio però il fatto che fossero spariti dei modelli ha un po' rotto il gioco e ah diceva Ender culo che arancione grazie mille Ender allora se lo dici tu è giusto io che annoto io che annoto acquetti bug quindi che cosa abbiamo fatto io ieri ero davvero tristissima perché ho passato tutto il pomeriggio a continuare a cercare di capire cosa andassi in quel livello per poi prendere la triste decisione di ricominciare tutto il gioco da capo off live perché avrei potuto farlo in live sarebbe stato abbastanza divertente ma ragazzi mi giravano troppo le balle scusate il francese però cioè dopo aver passato un intero pomeriggio a star dietro a questa cosa io dico no non sinceramente vado in live e sarò antipaticissima non parlerò eccetera eccetera quindi cosa ho deciso di fare ho detto moderatori se vi va io mi metto un po' a capire il problema magari seguiamo tutti insieme un walkthrough nel senso siamo un po' insieme a cercare di capire quale potrebbe essere l'errore che non mi fa andare avanti e almeno non sto un po' da sola qualcosa detta da Enderkin qualcosa detta da Yusa oh no no dai no Kuni mi picciuino ogni messaggio se fossimo una fanfiction sarebbero quelle due persone che dicono vabbè queste nel Redemption Arc si mettono assieme per forza e la la soluzione alla fine è arrivata nel senso non mi sono messa a fare tutto il gioco ma siamo andati fino al punto in cui c'era sembrato un po' strano che qualcosa non fosse successo chi segue la Lord Knight sa che a un certo punto siamo andati in un posto dove bisognava fare un livello di laser tag e vincere un premio cioè bisognava prendere tutte le bandierine difendere le posizioni con la pistola sparare a chi c'era chi arrivava e qualcosa vuole che quando ho perso comunque mi ha fatto andare avanti quella cosa deve aver baccato il gioco come faccio a saperlo perché nel momento in cui siamo tornati indietro fino a quel punto e ho finito il gioco prendendo tutti i punti che c'erano da prendere quindi prendendo la pistola d'oro e anche andando a vedere un paio di easter egg molto fighi che dirò martedì perché sono andata a vedere le altre stanze a quel punto siamo andati avanti ormai conoscevo tutte le mappe dai forza su su dai che devo fatturare a quel punto dopo due ore e quaranta di un'ora e quaranta o due non mi ricordo di poi il tempo ormai era un concetto indefinito siamo arrivati a quel punto e effettivamente funzionava e quindi avevo la gioia nel vedere che c'erano dei robot che mi avrebbero reso molto più difficile la la vita però tipo se ci sono ora possono prendermi ammazzarmi let's go e il fatto che l'abbia fatto con i moderatori è stato così bello perché io ho un linguaggio molto pulito in streaming ok a parte quando gioco a bloodborne ma sono altri tempi io ho il linguaggio davvero pulitissimo e non tendo a non essere scazzata ok con i miei moderatori posso permettermi di non fare intrattenimento ma stai lì no raga che cacchio tutto il tempo non lamentarmi e sono molto liberatorio molto liberato se si se I mean e meno male però che strano che la tesi vede buggato questo gioco non è mai successo io ho letto che ci sono stati un sacco di altre situazioni comunque a me questo tipo di gioco piace tantissimo perché vabbè gli occhi da creativa ogni tanto faccio un reminder alla frase creativi let's go io sono follemente innamorata del design di tutti i robot che hanno deciso di inserire all'interno del gioco quindi il fatto di perdermi qualcosa è inaccettabile poi questo gioco in particolare prende tutti i miei punti deboli che sono i neon le luci gli alberi la terra no è tutto quanto fichissimo tra l'altro è un po' più esplorabile adesso che ho un paio di permessi in più nel gioco quindi posso andare in giro sinceramente se fosse stato troppo baggato per giocarci non credo mi sarei ripresa da questo rosicamento perché ho troppe sfortune nella mia vita ma almeno questo gioco che aspetto da un botto volevo finirlo e sono molto molto contenta non vi nascondo che voglio provare altri giochi del brand uno dei quali è su questo telefono sul galaxy in questo momento e non lo avete visto perché ci ho pensato dopo però è lì e sono mega contenta tra l'altro il disegno a tema Five Nights at Freddy's è finito presto diventare un poster però volevo prima dare valore ai pokemon e poi passare a un altro gioco così facciamo una roba alla volta ciao cool porro hello gul gul ciao finirel hello hello una volta basta banare yuzum per stemperare lo stress e invece adesso yuzum che fine ha fatto manca moon drop e sun drop è pronto in realtà perché è praticamente finito tutto quanto però mi sono messa a disegnare altre cose di proprio tema e quindi ho detto aspetto aspetto cioè una cosa alla volta se faccio uscire troppi disegni poi nessun disegno ha l'impatto che voglio partiamo da questo che ha oh ho sbagliato partiamo da questo che comunque sai no pokemon io mega fan tanto stasera dovrebbe esserci una live alle 23 siamo tutti pronti con il nasino da clown per silksong tutti sei bravissima grazie molto gentile non non so se lo avete ricevuto in caso cunni e yuzum sono al banchetto che vendono i nasini del poti poti so che state aspettando silksong so che non abbiamo fatto altro che dirlo e in questo caso vuol dire che la data verrà costantemente rimandata in caso abbiate bisogno stasera tutti con l'asino da clown ogni volta che qualcuno lo nomina si ormai se dici silksong lo rimandano di altri vent'anni eh però come fai a contrastare questa voglia di giocare a questo gioco come si fa io non riesco più ad attendere non non mi capacito che che forma avrà questa coda sarà un po' in 3d beh la scopriamo c'è un così voilà ok si sembra abbastanza indietro però così si perde nell'oscurità quindi devo fare questo allora che stress i videogame ma ma ti dico guarda fossi una persona a cui interessano tutti i videogiochi che dici deve stare al passo perché il suo lavoro è conoscere tutti i videogiochi parlarne giocarli ti dico ok è uno stress eccetera io ho quattro passioni una della quale è stata rimandata a due anni caped però adesso mi becco anche tra dieci giorni un cartone mamma mia caped che rivoluzione il mondo dei videogiochi e dei disegni e tutto quanto che punto debole caped cioè proprio il mio punto debole caped insieme a andertale altre cose poi che altro mi piace mi piace Hollow Knight che le persone stanno scoprendo tutti in sti giorni e io sono tipo quattro anni che aspetto Six Song bravi tutti che giocate a Hollow Knight unitevi a noi mentre aspettiamo il secondo credo io che vendo nasini poti poti ma che bella stai mot che carina ma si tocca il naso ma si tocca il naso kuni l'hai fatta tu quella potrei riconoscere l'hai fatta tu non si nominassi il Song devo farci la cover bisogna le evoluzioni di Star de Rizio e che ne pensi beh mi piacciono molto Samuro te lo trovo un po' pigro ma il mio preferito è Desidue Eye che è lui e sto in poi ad andare a apprezzarli devi conoscerli non ho abbastanza punti per sbloccare la monnage si Pepposhai bellissima bello il tuo stile di emoticon tra l'altro kuni come sta andando con la tua carriera di emot artist dimmi un po' condividi perché ti dico non ce ne sono molti in Italia che mi viene da dire ah si vai da lui vai da lei però sai che sento un po' di responsabilità e vorrei iniziare a spammare le persone che dico ok mi hanno chiesto l'emoticon io non posso però tra colleghi ci si supporta no tu come fra qualche minuto ci arrivi si guarda enderkill guarda guarda ci vediamo dopo su discord su telecom tutte oggi sono successe c'è anche roba di wolf among us alla fine della live quindi non vi perdete neanche un minuto qual è la notizia sensazionale qual è la notizia sensazionale in che senso dello streaming notizia sensazionale che ho tra le mani il nuovo samsung galaxy s22 ultra che è il modello più avanzato quello con la penna però ho fatto tutto il review all'inizio della live quella notizia sensazionale se no possiamo parlare del fatto che sono andata a correre stamattina è sensazionale ho fatto tutorial per fare delle emote non nella precisione però ho fatto un botto di emote in live si possono con spiegazione tra l'altro ho fatto questa cosa per questo motivo mi piace comunque insegnare come fare emoticon è un'arte un po' sottovalutata quella di fare l'emoticon prendiamoci chiaro tutti hanno bisogno dell'emoticon ma nessuno che dice l'emoticon come stai ho fatto un po' di emote per il canale di nuove fili ultimamente sono andata per un partner che è un stato di slots e sono invidiosa uff oh no kuni ci arrivi non ti preoccupare Robi è molto brava a insegnare ve la consiglio ah si ti ho dato consigli utili a me sembra che come composizione di emoticon guarda che te mi superi in molti casi ci sono alcune tue emoticon che sono talmente geniali che dico vabbè vabbè come ha fatto mi piace un sacco questo type fusion ti ringrazio molto ho 5 minuti per finirlo prima di fare le considerazioni finali però lineart fatto colori infatti ma che velocità solo per voi io mi sa che dovrò fare questo tipo di ombra perché lui è bello tondino è molto caruccio no ho sbagliato livello vero ok rimettiamo il lucchetto e andiamo a disegnare sul livello giusto non è che smetto di accorgermi ne sbaglio tutto è tondo ma non è abbastanza fancy vabbè non è che il primo fosse abbastanza fancy tutto merito degli insegnanti trombetta se vuoi si chiama Cikibe la consiglio anche a te carina che consigli le persone ci darò un'occhiata ma Cikibe ha le commissioni aperte perché io vorrei chiedergli un batto di emoticon deve farmene subito subito Cikibe posso chiederti se lavori per me ecco domani 30 emoticon tutte dettagliatissime e non chiedermi troppo grazie commissioni no no scherzo allora i clienti che vengono a scrivermi non sono così non mi sottovalutano così tanto tipo ma si muoviti però lo fanno con altre persone cioè il fatto che non lo facciano più con me non vuol dire assolutamente niente perché semplicemente io boh avrò ho guadagnato un certo prestigio va bene me lo me lo tengo nel senso non è un problema però so che i grafici non vengono trattati così tipo scusa se ti disturbo puoi farmi guarda ti do tutti i soldi che vuoi non li trattano sempre così budget 7 euro oh no un budget di ispari che fastidio non è un ah non è un multiplo di 10 ti posso sancere una robetta che potrebbe interessare perché c'è il chat riguardo un gioco che ti piace molto din dimmi pure si 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 ditemi ditemi ti pago invisibilità si non vi nascondo che ci sarà vabbè io sicuramente sono al twitchcon quest'anno probabilmente entrambi se non arrivano dei progetti in cui è davvero necessario che io vada io penso che sarò al in quel periodo di tempo sarà riservato a io che vado in america san diego arrivo e anche perché l'unico twitchcon che ho visto in america è stato a san jose e non l'ho mai più dimenticato veramente è stato uno delle vacanze la vacanza più bella che abbia fatto nella mia vita per la quantità di cose che ho fatto persone che ho conosciuto streamer staff di twitch i fan anche stranieri è stata una roba assurda andare in america e fare il twitchcon anche come partner quello è stato abbastanza e poi con i miei amici ero con esprit con gatto con l'ale è stato bellissimo lo voglio rifare però ammetto che voglio dare un po' più di senso alla mia presenza nei festival perché mi piacerebbe dare una mano un attimino a tutti quei grafici e tutte quelle persone creative come me io ho avuto la fortuna di viverci con questa roba robetta no si ride no si scherza io faccio disegnetti ma per ridere e sento anche di poter dare una mano nel settore allargando dando un po' di nuove idee in generale ora non so quanto la mia esperienza sia utile e dove però mi piacerebbe metterla a disposizione nel futuro più avanti anche per allargare un po' il cerchio di creativi conoscerci fra di noi e guadagnare su quella che è la nostra passione perché è bellissimo vivere di arte ok però ci devi arrivare nel paese geografico dove mi trovo è una cosa difficilissima e ci si deve dare una mano a vicenda ci sono 6 euro e 50 e sappi che ci sto rimettendo buonasera a tutti mirael ma oh cosa raga ma come cosa cosa eh shout out dopo tanti anni oggi ho avuto un cliente per una commissione non ci credo lo sto per dire perfetto mi ha dato carta bianca non ha chiesto correzioni soprattutto voleva pagarmi il davido più lavori più aumenta il giro di persone che vorranno i tuoi lavori come perché avrai il tuo stile le tue cose la gente vorrà i tuoi lavori e più potrai essere un po' più picchi con i clienti che è una cosa che consiglio perché ti salva molto a proprio livello di salute mentale in realtà quella che noi chiamiamo gavetta in realtà è farsi tutte le le peggiori situazioni dove il cliente non ti paga scappa con i soldi non vuole assolutamente che tu faccia una cosa ma vuole che tu copi un altro stile piano piano che sempre più persone ti chiedono e ti vogliono puoi prenderti il privilegio di prediligere senti che parole che usano tante R la clientela che più ti tratta meglio che è una cosa che dovrebbe essere la norma dare per scontata ma c'è una cosa che in realtà si chiama gavetta e tu devi fare per permetterti di poter scegliere che cliente avere se no ti devi prendere quello che capita e molto spesso sono molto dannosi anche per il tuo per la qualità del tempo che spendi a fare questa cosa ecco molto difficile soprattutto per chi come me è un po' un freelancer quindi è tutta una partita a scacchi su cosa scegliere di fare quale cliente quale lavoro mi butto in questo progetto o passo e penso al mio brand e alle robe mie è una partita a scacchi letteralmente crying a lotte tu come stai ho tipo due minuti ma volendo possiamo parlare un bel po' che non ti vedo c'è stato un cliente che mi ha chiesto il disegno oltre ad essere stato gentilissimo e anche lasciato una mancia dalla madonna vabbè ma poi mamma mia le mance ma io per me io vorrei essere una di quelle persone che dà le mance come regala le sub però ho chiesto pochissime commissioni nella mia vita fra cui Pions Pions shout out shout out a Mirrell che è bravissima shout out a Kuni che è bravissima shout out a Yusam che è bravissimo cioè comunque è un artista pure lui non scherziamo è un moderatore ma è bravo a fare il moderatore che palle si mancia a tutti però Pions è anche bravissimo insomma bravissimo incredibile e io ho proprio detto vai vai cioè non mi importa il prezzo voglio che sia il lavoro più bello di tutti infatti sono orgogliosissima di tutto quello che è il mio setup grafico però se potesti dare la mancia dai una mancia al tuo grafico dai una mancia all'artista soffriamo la fame questo spiega art nel nome eh ma io non faccio niente non mentire non mentire a noi Yusam vediamo come posso fare l'ombra di questo specifico orecchio ho pochissimo tempo perché è quasi finito il mio tempo nel Galaxy Creative Fest madonna io sono pessima nella memoria mi faccio prendere un po' anche dall'ansia quindi spero che sia andato tutto bene oggi e dovrebbe essere sì così va benissimo adesso allargo un po' qua sono molto più brava a disegnare ma c'è un raid dell'Azza oh caspita che cavolo stavo per chiudere però il raid dell'Azza è cortesia dire grazie dire buona dire grazie ciao Azza come stai tra l'altro io e Azza ci vediamo stasera benvenuti amici benvenuti in questa live che purtroppo sta per terminare perché oggi abbiamo fatto dalle 5 alle 7 sono contentissima di avervi qui perché anche l'Azza è un artista noi siamo creativi l'Azza è una creativa anche Angelica è una creativa perché Angelica è cosplayer l'Azza invece è una designer fa di tutto andatela a seguire siamo tutti colleghi dobbiamo supportarci a vicenda mamma mia quanto amo i miei colleghi oh no bugia non ascoltatela ragazzi con questo mega elogio non dire niente Azza guarda io vi lascio in questo modo vi lascio così questa era l'ultima parte dello streaming purtroppo purtroppo vi devo salutare perché sono le 7 0 1 e fra mezz'ora ci sarà Kodomo che continuerà questa bellissima catena di creativi con il Galaxy Creative Fest vi ringrazio tantissimo per essere stati con me e badate bene le discussioni fra creativi sono le cose che mi appassionano di più quindi se vogliamo fare un'altra catena di amore e supporto eccetera eccetera io faccio altre due live questa settimana domani giochiamo a Phoenix Wright venerdì si continua il disegno quindi se vi va di unirvi se vi è piaciuto questo disegno se vi è piaciuto il telefono se vi è piaciuto il Galaxy andate a vedere tutti i link io spero di essere stata il più esauriente possibile non esaurita quello no però adesso vado a mangiare giuro bravissima bravi Samsung avete visto cosa veniva a schermo non è farina del mio sacco c'era Becky che faceva tutto hi Becky devo mettere la ending screen perché il tempo a nostra disposizione è finito grazie mille ah si io ce l'ho già ad in però ottimo shout out poi lo rimettiamo anche lì su su Galaxy sempre ragazzi grazie mille metto lo screen di chiusura vi lascio con una canzone grazie mille e alla prossima ci vediamo domani alle 5 con Phoenix Wright ciao belli grazie della compagnia buona serata bye 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 Grazie a tutti.